La vede questa apertura qui? Sì. L'ha creata il terremoto, adesso è un passaggio di collegamento. Scendo nel canyon. È profondo almeno 60 metri. Qualcosa mi ha morso. Sam, cosa riesci a vedere laggiù? Oh mio Dio. Sam! Sembra che il corpo sia in acqua la settimana. Voglio sapere che diavolo ci fa quella cosa nel mio lago. Quello è un piranha. Questa specie di piranha si è estinta due milioni di anni fa. Dobbiamo chiudere il lago. Siamo noi due e 20.000 ragazzi. Fai i tuoi calcoli. Bomba! Togliti tutto! Lo sceriffo ha dichiarato lo stato d'emergenza. Tranquillo, di birre ne abbiamo ancora! Il piranha caccia in branco. Il primo morso provoca il sangue. Il sangue richiama il branco. Togli fuori! No! No! Piranha. Il piranha caccia in branco. 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 Grazie a tutti.